Come ho avuto modo di dirvi di recente, attenzione perché con la Royal Rumble a pochi giorni usciranno un sacco di rumors, poi si riveleranno veri? Boh, vallo a sapere. Qui addirittura c'è chi sostiene che Bad Bunny tornerà in WWE proprio per partecipare alla rissa reale. Lo fa Ringside News, non una fonte attendibile al 100%, secondo cui però lui ci sarà, addirittura dicono di aver parlato con un membro del creative team che ha confermato la cosa. Beh, sarebbe un gran colpo per la WWE, visto che Bad Bunny ha una fama internazionale e una forza social e attrattiva di altissimo peso e livello. Però insomma, i posti disponibili iniziano a diminuire, a scarseggiare. Ci sarà per davvero di nuovo Bad Bunny? Oppure è semplicemente un clickbait? Tanto poi sarà facile tornare indietro o fare finta di niente. Voi cosa ne pensate? Beh, Bad Bunny, ovviamente nella rissa reale, se dovesse esserci, non c'è per vincerla. C'è per fare qualcosa, magari uno spot particolare, di modo che si propaghi sui media. E poi chissà, o potrebbe sempre aprirsi uno scenario per un eventuale match in futuro avresta il mania. Ad esempio, se dovesse eliminare Damien Priest e questo sclerare e pestarlo pesantemente, e così si troverebbero uno contro l'altro in qualche modo allo showcase degli immortali, magari con dei partner, non lo so, Beh, potrebbe essere un qualcosa da cui iniziare a lavorare creativamente per poi gettare giù delle basi migliori di quelle che così io ho voluto generare randomicamente. Voi cosa ne pensate? E vestite la giacchetta dello sceneggiatore. Come inserireste Bad Bunny in un percorso dalla rissa reale a Vrestelmania? Sono molto curioso di leggere le vostre pensate, le vostre idee. Forza, qui sotto, dita roventi, datevi da fare.